La pioggia caduta poco prima non ha scoraggiato i fedeli che ieri pomeriggio, giovedì 4 agosto, hanno partecipato alla Via Crucis attorno alla Statua del Redentore. È stato il primo appuntamento dei festeggiamenti in suo onore che avranno luogo ai piedi del monumento che si trova sul Monte San Giuliano. Noi qui a Caltanissetta abbiamo due poli per la celebrazione di quest'unica festa di Gesù Redentore. La cattedrale come festa diciamo liturgica che però si espande anche sino al Redentore dove nel Novecento i vescovi della Sicilia hanno voluto collocare questa grande statua di bronzo che è una delle 19 statue che si trovano in tutte le regioni, 19 regioni italiane, per ricordare l'anno santo della redenzione del 1900. 19 secoli, 19 statue. Ecco, quella di Caltanissetta rappresenta tutta la Sicilia. E il Redentore non benedice la città dalle spalle alle città ma soltanto perché tutte le statue dell'Italia, le 19 statue, sono rivolte tutte verso Roma. Anche in cattedrale dunque ci si prepara la festa del Redentore con il triduo di preparazione a partire dal 3 agosto. Il 6 agosto la statua del Redentore verrà poi portata in processione intorno alle 19.45 dopo la Santa Messa per le vie del Centro Storico. Leggo una strofa tratta dalla novena popolare in onore di Gesù Redentore composta dal canone Copulci nel 1901. E' per dire la fierezza con cui i nisseni hanno sempre celebrato la festa di Gesù Redentore. Fortunato cittadino di sta terra beneditta, d'una lodi di continui, sul Livanno l'arma afflitta all'eterno Redentore, che si mostra tutto amore. Fortunato cittadino, dobbiamo per questo sentirci fortunati qui a Caltanissette di avere questa bella tradizione, soprattutto questa statua che rappresenta proprio tutta la Sicilia e la fede dei siciliani nella redenzione di Gesù. Fortunato cittadino. Fortunato cittadino.